Stasche e Tecolors hanno avuto al possibilità di ripercorrere l'avventura sul palco dell'Ariston nel salotto di Domenica Inn, dove hanno inoltre confermato l'ampio successo che il Festival di Sanremo ha donato alla loro band. Ci siamo avvicinati tantissimo alla gente, è la cosa che ringraziamo di più. Nel loro passato, tante le rinunce effettuate per raggiungere gli obiettivi, i sacrifici si fanno sempre e si continuano a fare. Poi il ricordo dei primi passi nel mondo della musica. Ci siamo trasferiti a Milano da Napoli e sentivamo quel peso di non voler chiedere i soldi ai genitori. Forse quello è stato il periodo più difficile, ma è anche quello che ringraziamo di più. Stasche e Tecolors il 4 marzo daranno il via alla loro tournée, che partirà da Napoli e toccherà diverse tappe in tutta Italia per un tour dal successo senza precedenti, ma cosa sarebbe successo a Stasche se non avesse sfondato nel mondo della musica? A rispondere a questa domanda è stato il cantante, che ai microfoni di Cristina Parodi ha ammesso che sicuramente avrebbe lavorato nel mondo dell'arte. Ag! di Fabiola Iuliano I fan di Stasche e Tecolors avranno l'occasione di vedere questa sera la band napoletana ospite di Che Tempo che fa. Dopo il Festival di Sanremo i tre ragazzi hanno avuto diversi impegni, ma non hanno voluto rinunciare a un'esibizione speciale. Come racconta il gazzettino, infatti, Stasche ha cantato Frida, Mai Mai Mai, insieme ai ragazzi ricoverati nel centro oncologico di Aviano. Un'esibizione dedicata a Ludovica Visentin, ragazza di Volpago del Montello che è morta di cancro a 16 anni dopo aver lungamente lottato. La sua tenacia e la sua forza sono stati di esempio per tanti. Anche per Stasche, che su Instagram, poco dopo la visita al centro, ha scritto «Grazie alla piccola Ludo un paio di anni fa ho conosciuto una gioia interiore che non sapevo di avere. È una sensazione inspiegabile. Che provo quando riesco a regalare anche un solo minuto di sorrisi a una persona che ogni giorno lotta come questi ragazzi». Antonio Stasche Fjordispino Alex Fjordispino e Daniela Mona compongono i Tecolors Band formatasi a Napoli nel 2010. Si fanno conoscere a Milano suonando alle scimmie noto locale sui navigli. Nel 2014 raggiungono la notorietà a livello nazionale partecipando ad amici, risultando vincitori l'anno seguente. Il loro singolo Evertime diventa un tormentone dell'estate. Hanno pubblicato sempre canzoni in lingua inglese, fino al Festival di Sanremo di quest'anno. Al loro attivo hanno tre albumi Vant, Out e You. A Sanremo, per la serata dei duetti, hanno avuto con loro sul palco Enrico Niggiotti e Tullio De Episcopo, il quale ha compiuto ieri 72 anni. Mara Maionchi, che è stata giudice di Niggiotti a X Factor, in un'intervista a Tivo Sorrisi e Canzoni ha detto che i Tecolors, insieme allo Stato sociale, sono stati i suoi favoriti. Ma ha anche detto di aver amato il pezzo di Ornella Vanoni, Pacifico e Bungaro. Il pezzo di Ornella Lauren